I campioni raccolti vengono prelevati dalla sezione empa di Lago Santo e verranno portati ad analizzare 12 dicembre 2012 località Boschetto abbiamo recuperato del mais apparentemente avvelenato procediamo alla pulizia del luogo in modo che non sia di danno agli animali è stato buttato anche proprio dentro apposta no perché poi si scioglie e va in acqua